Il primo aprile è il giorno degli scherzi, il cosiddetto pesce d'aprile e gli italiani hanno fama di essere dei gran burloni. Oggi chiediamo ai passanti di raccontarci il loro scherzo più divertente che hanno fatto o ricevuto ma anche le barzellette o le battute che li fanno ridere. Qual è lo scherzo più divertente che hai fatto o che hai ricevuto? Allora, io non sono tipo da fare scherzi, però ne ho visti fare. Uno molto particolare, anche elaborato, praticamente si scenava una specie di omicidio e quando la gente passava sotto questo cavalcavia arrivavano delle persone travestite con delle maschere tipo quelle di sole enigmista, cose di questo tipo e iniziavano a rincorrere gli spettatori. Ovviamente urlavano perché era notte. Poi dopo l'inseguimento, una volta raggiunti i poveri malcapitati, si toglievano la maschera e dicevano che era uno scherzo. Però in questi casi lo scherzo può anche trasformarsi in una sorta di pericolo perché magari chi soffre di cuore può rimanerci. Quindi questo mi piace molto ridere. È uno scherzo horror questo qua. Sì, a tinte horror, esattamente. Alla mia ragazza una volta, praticamente insieme a mio amico, abbiamo segnato il numero di telefono della sorella più piccola di questa ragazza, già di questo mio amico. Poche parole, lei si è ingelosita, ha chiamato la sorella di questo mio amico. Insomma, beh, vai. L'avete fatta ingelosire? Non vado nel dettaglio, però è impazzita. Che giustamente ha trovato proprio il numero di telefono, una dichiarazione di amore. Quindi ha chiamato il numero di telefono, ha sentito anche quindi la risposta di una ragazza che era preparata ovviamente dal mio amico perché era la sorella di questo mio amico, che poi le rispondeva e diceva guarda, il tuo ragazzo sa bene chi sono. E' impazzita comunque, veramente impazzita. Qual è lo scherzo più divertente che hai fatto o ricevuto? Più divertente che ho fatto, lo probabilmente ricordo, qualche anno fa al lavoro, avevamo uno stagista, era arrivato da poco e lo mandammo a prendere il famoso Tozza Bancone. Questo era un ragazzo non rena di Napoli, quindi per lui era un prodotto che realmente poteva esistere. Cos'è il Tozza Bancone? Il Tozza Bancone è un'esperienza napoletana, cioè devi solo venire a Napoli, andare in un posto e chiedere il Tozza Bancone, che è inspiegabile. E' qualcosa che non esiste, quindi le persone vanno in giro a chiedere questa cosa e i negozianti ti chiedono ma che cos'è, ma di cosa stai parlando? Mi hanno fatto cinque minuti in ritardo gli auguri, è stato divertente perché è stato un momento di assoluto silenzio e io mi sono fatto gli auguri da solo e tutti mi guardavano in silenzio. Molto bello, molto divertente. Ah, ok, quindi tu mi hanno fatto finta tutti di essere solo dimenticati? Sì, tutti presenti. Tutti auguri a me! Silenzio tombato. Qual è lo scherzo più divertente che ti ricordi? Sì, niente, praticamente un collega, lui mi porta sempre gli stivali, gli ho messo in un cagista, un loto, gli ho messo in 30 stivali, gli ho messo in un stivalo, e mi ha messo in qualche ramienda. Questo è lo scherzo che io ti stilavo il primo aprile. Pesce d'aprile? Pesce d'aprile, sì, pesce d'aprile. Qual è lo scherzo più divertente fatto o ricevuto? Hanno fatto finta che si fosse bruciata a casa, perché avevano messo le stelline sul tavolo e tipo sono arrivato e c'era una fiammata, però in realtà avevano solo acceso le stelline, vabbè, comunque hanno fatto vedere se stessero incendendo casa. Lo scherzo più divertente o più terribile fatto o ricevuto? Fatto, fatto. Lo scherzo più divertente fatto è uno scherzo che ho fatto tanto tempo fa. Io ho condotto per anni alla radio una trasmissione di scherzi e quindi feci una volta uno scherzo di una signora che in realtà non fu un vero e proprio scherzo, già che io la chiamai per dirle che, vista la sua mole, sarebbero stati necessari dei lavori all'ascensore per allargarla, perché lei non entrava dalle porte dell'ascensore stessa, ma lei cominciò a ridere e rise ininterrottamente per 12 minuti. Questo scherzo è passato alla storia come lo scherzo dell'ascensore. Purtroppo quella signora non c'è più. Poi mi hanno raccontato i nipoti, perché stiamo parlando di uno scherzo fatto una ventina d'anni fa, però è rimasto nella storia come uno dei più divertenti che abbia mai fatto. E come l'ha presa la signora? È stata al gioco? La signora è stata al gioco, ha riso tutto il tempo, per cui non ci siamo praticamente scambiati parole. Quando io le ho detto che bisognava allargare le porte dell'ascensore e che lei doveva occuparsi di pagare perché era l'unica che non c'entrava, lei ha cominciato a ridere e non ha più smesso per un quarto d'ora. E quindi di conseguenza, alla fine non lo so se lo scherzo è riuscito o no, in realtà, perché lei ha riso tutto il tempo, quindi non siamo riusciti a scambiarci altre parole se non risate. L'italiano è una lingua brutta ed impararla non serve proprio a niente. Molto meglio imparare un'altra lingua, come il francese. Pesce d'aprile, ci è ricascato, eh? Scherzi a parte, lo sapevi che puoi imparare l'italiano seduto comodamente dal divano di casa guardando i nostri video? Non sto scherzando, ma per portare il tuo italiano ad un altro livello devi diventare membro della nostra comunità. Infatti così facendo avrai accesso ai contenuti extra, come ad esempio il video senza sottotitoli, l'audio lento, gli esercizi e tanto altro. C'è anche il podcast di IsItalian con me e con Matteo ed in questo caso gli extra sono la trascrizione integrale degli episodi, la traduzione multilingue, il vocab helper con le parole più importanti minuto per minuto e tanto altro. Il link per diventare membri della nostra comunità lo trovate in descrizione. E tu in genere come reagisci agli scherzi? Stai allo scherzo oppure ti arrabbi? No, 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 sto allo scherzo, non ho mai ricevuto uno scherzo di questo tipo, però solitamente non me la prendo mai, sto allo scherzo assolutamente, che solitamente me li fanno gli amici, quindi non posso mai prendermelo. E tu invece in genere come reagisci agli scherzi? Ti arrabbi o stai allo scherzo? Assolutamente no, perché lo scherzo è lo scherzo, ovviamente se è fatto bene lo scherzo uno si può pure un attimo arrabbiare per far sì che l'altro che fa lo scherzo si diverta, gongola insomma, capito? Questo è il bello. Però è fatto bene, ci casco e quindi un pochettino di arrabbia, ma poi dopo vedo che lo scherzo non mi arrabbia più di tanto. Dipende dallo scherzo, per uno scherzo del genere penso che mi sarei incazzato molto, penso che non me la sarei presa molto bene. Dipende, di solito sto al gioco, diciamo quella secondo me è una cosa che viene anche con l'età, perché quando sei piccolo è facile confondere lo scherzo con la presa per i fondelli e magari uno si infastidisce, però ormai la prendo a sorridere. Non ti arrabbi mai? No, 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 forse quando ero più piccolo, al passare degli anni, ho 41 anni, ci sta pure, no? Come hai reagito a questo scherzo? In genere come reagisci? Te la prendi o stai al gioco? No, no, sto al gioco, sto al gioco, lì per lì sono rimasto bloccato, poi vedevo tutti quanti a disagio per non potermi fare gli auguri, è stato divertente, è stato molto divertente. No, vabbè, io di solito sto allo scherzo, non è che mi arrabbio, vabbè, un po' dentro c'è quella cosa che brucia, però comunque sto sempre allo scherzo, perché è bello scherzare comunque, poi dipende se c'è il cattiverio o no, però comunque di solito sto sempre allo scherzo. No, io sto al gioco, ovviamente quando li ricevo, quando li ricevevo, adesso capita molto più di rado, però insomma, farsi uno scherzo è sempre divertente. E qual è il tuo comico preferito o i tuoi comici preferiti? Allora, a me piacciono molto più Amedeo, non so se li posso catalogare come comici, però quando vedevo la loro trasmissione Mi Gratis mi rilassavano molto e mi facevano ridere, quindi sono loro due. Guarda, il mio comico preferito in questo momento è Biagio Izzo, perché è polietrico, è tutto fare, è umile, anche sulle scene è umile, è il mio comico preferito. Italiani sicuramente, Checco Zalone è uno dei comici che preferisco, perché ha sempre portato una comicità piena di critica sociale, ecco, quindi mi piace, diciamo, lui e lui più di tutti, penso, sì, lo metto tra i primi, ma anche Maccio Capatonda. In Italia è difficile, è difficile, diciamo preferisco lo stand-up comedy, quindi c'è Karim Musa, Yotobi per chi lo seguiva su YouTube, ma Ricky Gerva, adesso ho visto qualche servizio su Netflix, ma mi fermo lì. Sì, sono un fan della stand-up comedy, non è che seguo nello specifico dei comici, però mi piace in generale, mi piace in generale. E ci sono degli italiani che fanno stand-up comedy fatto bene? Non ne conosco. Tutti stranieri? Fammi qualche nome? È che non so, Ricky Gervais, stupidamente l'ho visto spesso. Teresa Mannino mi piace molto. Chi è Teresa Mannino? È una comica siciliana, niente, fa spettacoli, mi fa molto ridere, diciamo. Attuale? Bucci Rosso, preferito, attore teatrale per me meraviglioso, attori di una volta, soliti, no? Troisi, Totò, insomma, i soliti comici napoletani. E poi, tra gli attuali, e oltre a Bucci Rosso, ora che ci penso, ecco, Checco Zalone di una volta mi piaceva. Il primo Checco Zalone, prima che diventasse troppo commerciale, diciamo. In che senso commerciale? Quelle battute fatte, tipo l'ultimo film, Tolo Tolo, battute politicali corrette che non mi sono mai piaciute. Mi piaceva più quando era politicali scorrette, diciamo. Ma i comici preferiti, diciamo, sono tra Biagio Izzo, diciamo Biagio Izzo, pure Alessandro Siani. Ci racconteresti una barzelletta oppure una battuta preferita, la battuta più forte che conosci? No, non ho barzellette o battute preferite, perché, diciamo, non sono un barzellettiere. E di battute, facendo teatro da tanti anni, chiaramente ne sento dire tantissime ed è molto difficile che mi facciano ridere. A me bisogna essere proprio, capito, cioè a me mi fanno ridere solo i Salemme, i Biagio Izzo, cioè proprio i, come dire, i cavalli di razza, ecco. E raccontaci una barzelletta o la tua battuta preferita? Ok, allora, me non fa molto ridere, lo dico. Non promette bene così? Infatti, allora, cosa dice una ragazza romana che si trova in Germania, in estate, quando fa molto caldo? Non ho idea. Stoccarda, stoccarda. Stoccarda? Quando la faceva ridere, l'avevo detto in anticipo. È una freddura. Sì, chiamiamola così. Una barzelletta, ma io sono soltanto le barzellette un po' così. Diciamo che non mi vengono, non sono molto bravo a far ridere, sono più bravo a fare canzioni. Vedi, qua mi becchi impreparato, perché proprio così su due piedi non mi vengono in mente. Perché io sono uno molto da black humor, in realtà, quindi... Non sempre adatto. Ma che difficoltà, una barzelletta. Non mi viene in mente al momento, quindi non saprei. Le barzellette non sono il mio forte. Onestamente, io non sono tanto un tipo da scherzi, ma mi piace fare tante battute e guardare i comici in azione. Uno delle mie battute, preferite di un comico napoletano di qualche anno fa, Massimo Troisi. Alla domanda, preferisci un giorno da leone o 100 da pecora? Mi rispose, ma non si può fare 50 da orsacchiotto. Adesso tocca a voi. Qual è lo scherzo più divertente che avete fatto o che avete ricevuto? Oppure raccontateci la barzelletta o la battuta che vi ha fatto più ridere. Scrivetecelo quindi nei commenti in basso. Ciao! 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 Ciao!